Manovali, lavapiatti, netturbini, colfe badanti, tutti i lavori nell'ultimo decennio rifiutati dagli italiani e diventati occupazione per cittadini stranieri nel nostro paese. Qualcosa sta cambiando, si sta assistendo ad un'inversione di tendenza. Il primo settore a denunciare un ritorno massiccio dei bergamaschi è quello edile. Dal 2007 ad oggi la percentuale di lavoratori extracomunitari nelle imprese di cassa edile è passata dal 31 al 28 con una perdita di circa 1200 persone. Nell'ultimo anno i lavoratori stranieri occupati nell'edilizia con mansioni base sono calati dell'11,5% contro un calo generale di quasi il 4%. In sostanza per la prima volta gli stranieri calano più degli italiani che tornano a fare la cuda davanti ai cantieri. Il lavoratore specializzato torna a fare naturalmente quei lavori di professionalità più bassa rispetto alla specializzazione che lui ha acquisito sul posto di lavoro. Quindi questo fa capire che comunque si ritorna a fare tutto quello che capita e quindi non lasciar perdere niente. Purtroppo qui notiamo la cosiddetta guerra dei poveri perché non è vero che questi lavoratori stranieri portavano via qualcosa a qualcuno ma purtroppo erano i nostri che per un certo verso rinunciavano a lavorazioni di un certo tipo. Le imprese richiedono meno mano d'opera straniera e la crisi senza una politica mirata e strategica rischia di innescare una guerra fra poveri, protagonisti soprattutto i giovani. Quei giovani che il sabato, la domenica o il venerdì non hanno il 50 euro per andare in birreria o diversifici con gli amici. Quindi si stanno rendendo conto che se non facciamo un po' di sacrificio tutti purtroppo non possiamo essere aiutati dallo Stato sociale, dalla famiglia che fino a ieri ha fatto questo sforzo pensando che comunque questa crisi finisse ma purtroppo non è così. Guardando al futuro, il 2011 non sembra ancora essere però l'anno della svolta.